La sua carriera cinematografica inizia prestissimo, con alcune interpretazioni minori negli anni 70 e verso la metà degli anni 80 con Ad. Oggi, oltre 90 film interpretati per Il Grande Schermo, dopo aver recitato a teatro in un paio d'ali nel 1997 ed in Rugantino nel 1998, ha interpretato lo ruolo di Alberto Dominici nelle quattro stagioni della fiction Un ciclone in Famiglia, e quello di Augusto Cesaroni, nella prima, quinta e sesta serie dei Cesaroni. In televisione viene ricordato anche nelle parodie di Bill Clinton e di varie presentatrici negli spettacoli del bagaglino della cui compagnia ha fatto parte per svariati anni sia negli spettacoli teatrali che televisivi da loro messi in scena. Ha doppiato numerosi personaggi in cartoni animati e film di animazione, tra cui Zeta la formica e la gang del bosco, e dal 2007 presta la voce al personaggio di Dog Chapman, nella serie Dog the Bounty Ante, trasmessa in Italia sul canale GXT della piattaforma Sky. Tra le sue interpretazioni più conosciute vi è il personaggio di Nino Diamanti in anni 60. Dal 1998 per le successive tre edizioni messe in scena fa parte del cast teatrale di Rugantino. Nel luglio 2014, ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d'Oro Alberto Sordi. Grazie. Grazie.